Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono NessimoA01 Oggi ragazzi siamo qui con un nuovo video per dirvi che sono tornato a farle live E quindi niente ragazzi, io vi voglio chiedere una cosa Domani sera iniziamo la carriera allenatore su FIFA 20 Dove farò tutto il live con voi Però io vi chiedo un aiuto Dovete scegliere la squadra, la squadra che vorreste vedere La squadra che vorreste vedere, insomma Che squadra, con che squadra volete che io giochi Quella che dice, commentate qua sotto con la squadra Quella che riceve più commenti vince, ok? Niente ragazzi, a voi i commenti è bella ragazzi Al prossimo video, anzi, a domani sera con la live della carriera allenatore Chi vince quest'oggi, domani avrà la carriera allenatore su quella carriera Con quella squadra Bella ragazzi, al prossimo video A domani, a domani sera con la live Ciao!